La pasta è sempre la pasta. C'è un luogo dove la tradizione per l'arte della pasta fresca si sposa con l'innovazione in materia prima a chilometro zero. Uova, farina, acqua e tanta passione. Qui ogni formato di pasta è il risultato di esperienze, modifiche, selezioni, studi, viaggi e perfezionamenti. Buona, guarda, è la piena. Aperto in via Filippo Corridoni 7, pastificio San Cesareo, una vera novità per il territorio. L'idea di questo pastificio nasce per portare prodotti nuovi, prodotti legati alla tradizione ma all'innovazione. Utilizzeremo prodotti a chilometro zero, sempre nelle possibilità stagionali, prodotti legati al nostro territorio e soprattutto materie prime di eccellenza. Qualche novità con un raviolo, con pasta di barbabietola, con un ripieno di ricotta di bufala, crema di limone e parmigiano. E venite a mangiare la pasta San Cesareo che è buonissima. Da pastificio San Cesareo, gusto e qualità hanno trovato casa. Vi aspettiamo!